Ben ritrovati, buongiorno a tutti, sono le 7 e mezzo del mattino e siamo in diretta per Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17, il santo del giorno, le previsioni e poi i giornali, vediamo il santo di oggi, oggi è San Vittorio e compagni martiri, il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.33, non lasciatevi ingannare da questa fotografia perché il bello, si fa per dire, il brutto deve ancora arrivare, intanto godiamoci questo sprazzo di sole con cielo che in questo angolo è senza o quasi senza nuvole, insomma, che dire, temperatura 17.4, quindi insomma 17 gradi, ma il tempo, il tempo sta per cambiare, tra l'altro c'era anche, non so se riusciamo a vederlo al volo, allargando, ecco, vedete, questa è l'inquadratura a sinistra del vostro teleschermo, del satellite, quindi l'animazione in tempo reale di quello che sta succedendo sull'Italia, ancora le marche sono libere da nuvole, ma vedete sotto la parte meridionale dell'Italia, interessata da questo ammasso di nuvole con perturbazioni che porterà poi pioggia, pioggia, comunque rovesci sparsi nelle province meridionali della nostra regione, poi nel pomeriggio rovescio temporale lungo il settore collinare della regione, dalla serata lungo la fascia costiera, le temperature sono in lieve diminuzione, venti di brezza, inizialmente tesa, inizialmente sud occidentale e poi per domani, domani invece peggiora, niente sole, soltanto nuvole e piogge con rovescio temporale diffusi, con accumulate areali moderate o elevate, temperature in diminuzione, venti nord orientali di brezza tesa, per la giornata di sabato non migliora, anzi peggiora, con rovescio temporale diffusi, con accumulate moderate lungo la fascia costiera e deboli nelle zone interne, quindi pioverà molto di più lungo tutta la costa adriatica, fenomeni che si attenueranno nel pomeriggio, poi temperature senza variazione di rilievo, i venti nord occidentali di brezza tese, il mare sarà molto mosso. La tendenza per i prossimi giorni, i giorni successivi, indicazioni di tempo variabile, anche per la prossima settimana con il transito in successione di saccature di area addirittura polare marittima, quindi insomma la temperatura che oggi si attesta intorno ai 27-28 gradi anche nel pomeriggio insomma scenderà di 10 gradi abbondanti. Allora andiamo adesso a leggere i giornali, da dove cominciamo? Cominciamo dal resto del Carlino, dai, resto del Carlino di Fano che apre con la corte malatestiana, questa è l'immagine così come l'abbiamo vista negli ultimi anni con il palcoscenico, con le poltroncine per i concerti, gli eventi sotto le stelle. In realtà qui è stato smantellato tutto quanto, ve l'abbiamo fatto vedere anche nei nostri telegiornali, la corte malatestiana diventerà più bella di prima, Stefano Marcheggiani che è il vice sindaco del comune di Fano ridisegna i luoghi degli eventi in centro. Tra sei mesi pronto il progetto, poi impossibile, perché è stato scelto di smantellare tutto, perché dice è impossibile far convivere 700 sedie e il palco ridotto poi in quelle condizioni. Poi la Fano dei Cesari, Fano dei Cesari senza le bighe, ammesso che si faccia questa Fano dei Cesari perché a questo punto tanto vale saltare e pensare ad altro, perché insomma Fano dei Cesari senza bighe è un po' così, zoppicante insomma, ma più comunque qualche, qui c'è l'elenco di tutti quelli che sono gli eventi, il cartellone degli eventi per i fanesi, per i turisti che è stato presentato anche nella giornata ieri, potete leggervelo e spulciarlo da cima a fondo. Poi Jets Club, stasera ultimo concerto del Bassini Trio, prima del Festival by Desi. Poi sull'altra pagina del resto del Carlino, la grande festa dell'agricoltura, tradizione e novità, dal 23 al 31 di maggio, eventi, espositori, iniziative per bambini, stiamo parlando della settimana agricola, la 27esima edizione di Fano Geo e della 36esima festa della Mietitura, tre giorni di eventi al centro ortofrutticolo del Codma e altri quattro a Falcineto. Poi sotto invece la Dominator, l'azienda che costruisce yacht, presenta la sua ammiraglia da 4 milioni di euro, lo facciamo vedere meglio, eccola qua, questa è l'ultimo lavoro, nella società un fanese, Francesco Serafini e un austriaco, intanto il yacht è un 24 metri. Ok, andiamo sull'altra pagina, sempre da Fano, in arrivo 11 vigili nel comando di Polizia Municipale, occhio ai divieti anche di notte, da ieri è stato potenziato, per l'estate il corpo di Polizia Municipale di Fano, sono arrivati i rinforzi, annuncia il capitano Annarita Montagna, vice comandante di Fano, sono 11 genti di Polizia Municipale a tempo determinato, di cui qualcuno ha lavorato già qui, dice, negli anni passati e altri nuovi perché inizia a scorrere la graduatoria, saranno in servizio fino al 15 ottobre ma non hanno ancora la qualifica di pubblica sicurezza. Tutti a fare surf con i remi, Marotta, capitale mondiale, tre giorni dedicate alla gara internazionale di SUP, diversi i percorsi, un circuito di 12 chilometri per i campioni, solo tre invece per turisti ed amatori. Andiamo sulla pagina di Pesero, la pagina 7 del resto del Carlino, arrivano la politica, arrivano Matteo Salvini e Giorgia Meloni, o tornano a seconda, visto che Matteo Salvini e anche Giorgia Meloni hanno già visitato le Marche nel loro turno elettorale, appuntamenti in vista del voto del prossimo 31 maggio, previsto anche Nichi Vendola domenica pomeriggio, venerdì convention con Spanca. E poi per quanto riguarda la sanità, riduzioni inferiori agli altri anni, ospedali non si fermano, gli ospedali non si fermano in estate, il direttore generale di Marche Nord Aldo Ricci dopo il via al piano ferie. Per quanto riguarda gli accorpamenti, neurologia e pneumologia inferiore al 2014, 14 pediatrie alternate, due mesi ciascuno. E poi l'altra notizia sul resto del Carlino è sul caso Ridolfi, calcio scommesse. Il padre, il padre di questo giocatore, di Giacomo Ridolfi, lo difende dagli Stati Uniti e oggi Giacomo dirà la sua verità. Infatti è previsto un interrogatorio alle 10 del mattino, sono gli amici incastrato da gente senza scrupoli, quindi lo difendono a spadatratta. Per l'accusa la palla data a Obeng che resta fermo spalanca la strada al gol, vittoria del Grosseto. Intanto dicevamo il papà Fabio dagli Stati Uniti, normale che gli inquirenti rendano innocui i coinvolti, essendoci di mezzo la mafia. Andiamo sull'altra, apriamo gli altri giornali. Il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico a Pesaro in vendita San Domenico ed ex carcere minorile. Il Comune sta valutando l'ipotesi di partecipare al bando dell'Agenzia del Demagno per l'alienazione. La partecipazione alla gara non è vincolante per l'ente che può nel frattempo considerare altre soluzioni. La nuova protesta dei migranti. Circa 50 rifugiati in marcia verso Urbagna sono stati fermati dai carabinieri. Da Borgo Pace a Piobbico il tam-tam della protesta dei migranti cambia paese, ma non la sostanza. Una cinquantina di rifugiati ospitati in una struttura di accoglienza del Candigliano nel Comune di Urbagna, ma ai confini con la vicina Piobbico, in attesa di essere riconosciuti come perseguiti ed ottenere i documenti per rimanere in Italia o ad essere rispediti a casa, muniti di cartelli, hanno protestato scendendo verso Piobbico facendo capire che la Commissione che sta valutando la loro posizione affretti il più possibile i tempi e più che altro di essere trasferiti in città più grandi. Questa è la loro richiesta per la quale appunto hanno manifestato, hanno protestato, tra virgolette. Poi da Fano invece la priorità al lavoro giovanile. Ninel Donini, candidata con l'IDV, si impegna anche per una sanità più equa e per la grande viabilità. La cura idrogeologica del territorio strategica per l'economia, la provincia finora penalizzata. Poi andiamo sull'altra pagina del Corriere, Nautica, arrivano nuove commesse. Dai cantieri di Via Papiria è uscito l'innovativo Dominator 800, poi anche qui si parla della Corte Malatestiana rinnovata e di Fanogeo con 400 alunni. Ancora dal Corriere Marotta e la città del Sup, attesi atleti da tutto il mondo, sarà la manifestazione clou dell'estate. L'appuntamento con la disciplina di recente invenzione è per il 19, 20 e 21 di giugno. Andiamo sulla pagina di Senigallia perché c'è la storia, la cronaca di una morte, una morte accidentale, 83 anni, una signora che era sola in casa, era andata ad aprire un cancello che seppur era elettrico però si apriva a mano. Purtroppo questo cancello era guasto da tempo e la signora Leondina Ottaviani purtroppo ci è finita sotto a questo cancello. Nella manovra è uscito dalla guida e l'è finito addosso. Questa signora di 83 anni è morta, è stata proprio la nuora che appena arrivata ha visto la suocera sotto la struttura. Una tragedia che tra l'altro arriva a distanza di tre anni da un'altra tragedia, un rogo, un incendio sempre fuori da quella casa, da quell'abitazione che aveva portato nel 2012 al decesso della figlia di 53 anni, Graziella Massi, ma non solo. Due anni prima, nel 2010, aveva affrontato questa donna un altro lutto, la morte del figlio maggiore Graziano Massi stroncato da un infarto durante una partita di calcetto. Andiamo sul messaggero invece adesso per le altre notizie. Intanto la foto per il giovane calciatore, le intercettazioni di Ridolfi, 3.000 euro per perdere, filo diretto con i finanziatori e regali dopo una partita persa. È quel che emerge nell'inchiesta delle scommesse. Poi Marotta recorre al TAR contro il sottopasso della discordia, la chiusura del passaggio a livello innesca il braccio di ferro con il comune. L'integrazione invece parte in cucina stranieri a lezioni di tagliatelle. Anche un gruppo di africani infatti ha partecipato a dei corsi di pasta fatta a mano, fatta in casa, organizzata dalla Stele. Tutto succede a Novilara con questi corsi di tagliatelle fatte a mano realizzati nell'ex scuola elementare che è situata dentro il castello del piccolo borgo medievale a pochi chilometri da Pesaro. Eccoli qua invece i candidati, i cinque candidati governatori delle Marche che ieri si sono sfidati a colpi di tweet, Rai News, il canale All News della Rai ha chiesto ai candidati delle Marche di rispondere sui grandi temi delle elezioni utilizzando i celebri 140 caratteri e il messaggero pubblica la sequenza dei loro 5T. Turismo, Marche, voglia di lunga stagione. Questa lunga stagione pensate incide per il 7-8% secondo le statistiche sul prodotto interno lordo, cioè sul PIL, oltre 16.000 persone occupate. I grandi testimonial hanno acceso nuovi riflettori ai vertici, nei contatti e nei social. L'obiettivo ora è sviluppare il brand nei mercati orientali, vera frontiera da esplorare. Nel 2014, l'anno scorso, presenze arrivi in aumento nella regione in controtendenza con i dati nazionali. Il mare e il paesaggio sono i più preziosi, sono i più apprezzati. Insomma, abbiamo una regione davvero bella comunque. Basta girare un po' l'Italia e tornare a casa e rivedere la nostra regione. La nostra regione è davvero bella, molto bella. Le Marche sono una regione straordinaria. La veglia dei docenti contro la buona scuola, invece al Cecchi presidio notturno a Pesaro. Poi tasse, il giorno delle tasse, tre tasse e due scadenze, i mutari e tasi. Confermata la prima rata entro il 16 giugno e il conguaglio finale a dicembre. Aliquote invariate, ma potrebbero sparire le quattro rate della tariffa rifiuti. Stiamo parlando di Pesaro, ovviamente. Il governo vuole ridurle ad un paio. Crescono le detrazioni per gli ISEE bassi. L'assessore delle Noci, l'assessore di Pesaro, sotto i 12 mila euro, dice, quasi nessuno pagherà l'IMU sulla prima casa. Poi, siamo in chiusura. Marche Nord, ancora sanità. Marche Nord rassicura il piano ferie, chiusi solo sette posti letto su cento. Ricci e Deales parlano di situazione migliore degli anni scorsi. Nessuna ripercussione sulle emergenze e sulle nuove assunzioni. Ecco, Deales e Ricci. Anche la CGL, il sindacato concorda, ma precisa, senza altro personale. Impossibile smaltire i giorni accumulati. Poi, sulla notte rosa, da Fosso Segliore fino a Marotta, non stop di eventi per il benvenuto all'estate. L'amministrazione comunale ha già messo al punto il cartellone. Ancora, per chiudere la pagina di Fano del messaggero, ecco la corte malatestiana, si trasformerà in giardino dell'arte. Nessuna retromarcia. Gli spettacoli estivi andranno tutti a Sant'Arcangelo. Il vice sindaco Marcheggiani diceva, vogliamo valorizzare un luogo caro alla città, di certo non abbandonarlo. Ed è stato presentato un progetto incentrato sulla realizzazione di due poli culturali. Con questo chiudiamo la nostra resegna stampa. Grazie per averci seguito. Occhio ai giornali torna domani mattina puntuale alle 7.30. Arrivederci.